Dopo aver analizzato il peso dell'aumento dei costi dell'energia per le imprese nel perdurare dell'emergenza Covid, l'ufficio studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre, ha preso in considerazione quanto incidono per le piccole e medie imprese. Autentica colonna vertebrale del sistema Veneto, Triveneto e Nazionale. Le microaziende pagano le energie elettriche il 75,6% e il gas il 133,5% in più delle grandi. Questo differenziale, a scapito dei piccoli, colpisce anche le realtà di pari dimensioni presenti nel resto d'Europa, sebbene negli altri paesi questo divario risulti più contenuto. In altre parole, l'Italia non si dimostra a misura delle realtà produttive con pochi se non pochissimi dipendenti. Molte di queste realtà hanno deciso negli ultimi tempi di introdurre o potenziare il turno di notte per contenere i costi energetici. Per abbattere bollette di luce e gas il governo ha messo a punto una serie di interventi, entrati in vigore nella seconda parte del 2021, per un importo totale pari a 8 miliardi e mezzo di euro, dove però i piccoli finiscono per essere i più penalizzati. In Italia i costi energetici per le PMI sono tra i più alti. Tra tutti i paesi dell'area euro, solo rispetto alla Germania, le nostre imprese pagano in meno. Rispetto alla media UE dell'Unione Europea, invece, i nostri piccoli imprenditori pagano mediamente il 15% in più. A proposito del costo del gas, sono al terzo posto, dopo Finlandia e Portogallo, per la tariffa più alta. Assieme all'andamento del costo della materia prima, in Italia la componente fiscale è l'altra voce che contribuisce in maniera determinante ad innalzare il costo delle tariffe. Nel primo semestre 2021, per la bolletta elettrica, ad esempio, in riferimento alle piccole e medie industrie, il 40,7% del costo totale è per tasse e oneri, 35,7% è la media dell'area euro. Per quella del gas, invece, se in Italia l'incidenza percentuale della tassazione sul costo totale a carico delle PMI è del 27%, nell'area euro si attesta al 25%. Se ancora ce ne fosse bisogno, questa è un'ulteriore dimostrazione che il nostro Paese non è a misura di piccole imprese. Sebbene queste ultime costituiscano oltre il 99% delle aziende presenti anche in Veneto, diano lavoro ad oltre il 60% degli addetti del settore privato e siano la componente caratterizzante le nostre esportazioni continuano ad essere ingiustificatamente discriminate.